E ora invece torniamo in Italia con le 5 proposte richieste per una efficace politica economico-sociale capace di far uscire il paese dalla stagnazione senza costi aggiuntivi avanzate al Presidente del Consiglio dei Ministri Gentiloni, dal Presidente della Consulta Nazionale Antiusura, Monsignor Alberto D'Urso. Le 29 fondazioni antiusura a nome del Presidente della Consulta Nazionale Antiusura, Monsignor Alberto D'Urso, hanno scritto al Governo Gentiloni per chiedere un incontro ed esporre le 5 proposte per un'efficace politica economico-sociale capace di far uscire il paese dalla stagnazione senza costi aggiuntivi e per far evolvere un modello che ha come obiettivo la liberazione delle persone dal debito cronicizzato. Il primo punto riguarda la necessità di stabilizzare il flusso dei fondi a garanzia per gli interventi ex articolo 15, prevenzione del ricorso all'usura in modo che le fondazioni siano in grado di programmare meglio l'attività ed estendere la platea delle persone da sostenere. Estensione alle famiglie della possibilità di accedere al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, così come previsto dall'articolo 14 della legge antiusura, riservate ad oggi ai soli soggetti economici, e rilevatasi profondamente sbagliata oltre ad essere incostituzionale, perché con la crisi è ritornata ad aumentare l'usura praticata proprio contro le famiglie, i disoccupati e gli esclusi. Sempre a tutela delle famiglie, introdurre dei correttivi per rendere veramente applicabile la legge numero 3 del 2012, che ha introdotto le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e consentire così alle fondazioni anti-usura di porsi come gestori delle crisi. Intervenire inoltre sul fenomeno delle esecuzioni immobiliari, che ammontano a circa 560.000 casi, laddove se riguardano famiglie prive di alternative per ciò che riguarda l'alloggio. Inoltre adottare una drastica limitazione al rischio di esposizione delle persone al gioco d'azzardo e attivare un'effettiva offerta di presa in carico terapeutica, oltre che prevedere delle misure giuridiche per il sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà economiche a causa di uno o più familiari caduti nella rete della dipendenza da gioco d'azzardo. In conclusione, scrive Monsignor D'Urso al Presidente Gentiloni, le chiediamo ancora di contenere effettivamente con un forte intervento il consumo di gioco d'azzardo, che è una delle cause principali del crescente sovraindebitamento, dell'usura e della dipendenza, che si vanno sempre più diffondendo. Le 29 fondazioni anti-usura chiedono inoltre al Governo di agire con chiarezze, al di là di ambigui tecnicismi, così come rilevato dalle stesse fondazioni in varie bozze di riordino sul gioco d'azzardo, di non confondere i termini. Ridurre l'offerta, infatti, deve significare ridurre effettivamente il consumo di gioco d'azzardo, ovvero tagliare la domanda di spreco di denaro e di tempo di vita. E questo, dicono le fondazioni, lo si può fare con la partecipazione e con la responsabilizzazione dei comuni e delle regioni, con i quali le fondazioni spesso collaborano.